A giurato lunedì mattina in aula il perito è scelto dal Tribunale di Arezzo per eseguire la perizia psichiatrica su Paola Marzenta, la donna che lo scorso 18 ottobre con un colpo di fucile uccise il marito Dino Gori a Lonnano di Prato Vecchio. Una settimana fa era stato conferito l'incarico per l'esame psichiatrico al professor Mauro Mauri dell'Università di Pisa. La perizia era stata disposta dal gruppo Gianni Fruganti per stabilire se la donna al momento del delitto fosse in grado di intendere volere, se sia socialmente pericolosa ed infine se sia in grado di sostenere un processo. L'esame sarà eseguito nell'arco di una ventina di giorni. La donna deve rispondere agli omicidio volontario aggravato dal fatto che la vittima sia il coniuge. Il delitto avvenne lo scorso ottobre nella frazione casentinese dove la coppia ormai separata da anni risiedeva. Il delitto avvenne all'interno della casa dell'uomo. La moglie esplose il colpo fatale mentre il marito stava mangiando. Dopo aver sparato chiamò l'avvocato, i soccorsi ed infine i carabinieri. I due stavano divorziando. La sentenza era in programma due giorni dopo l'omicidio.